La procura di Arezzo ha aperto un'inchiesta sull'incidente alla Chimet, dove sono rimasti intossicati sei operai per aver inalato monossido di carbonio. L'ipotesi è quella di lesioni colpose. L'allarme era scattato martedì mattina, poco dopo le 7.30, quando i lavoratori avevano cominciato ad avvertire dei malori, mentre erano al lavoro su una torre a 15 metri di altezza. Gli operai stavano effettuando la manutenzione ai filtri dei forni della lavorazione. I vigili del fuoco intervenuti sul posto avevano raggiunto 4 dei 6 operai che si trovavano in prossimità del filtro. Uno di loro era in forte stato confusionale, era stato immobilizzato sulla spinale, poi evacuato tramite un cestello da cantiere ed affidato al personale medico del 118. Gli altri addetti invece, scesi da soli dalla torre, erano stati presi in carico dal personale sanitario. C'è stata un'ottima collaborazione che ha permesso di ridurre tantissimo le tempistiche di soccorso e di trasporto dei feriti. Noi abbiamo inviato sul posto quattro ambulanze, di cui due infermierizzate, due BLSD e l'elisoccorso Pegaso. Due operai erano stati trattati sul posto, un altro, un cinquantenne a retino, era stato invece portato all'ospedale Careggi con l'elisoccorso, altri due infine ricoverati all'ospedale San Donato di Arezzo e Giadi Messi. La prima cosa da fare è chiaramente dare ossigeno, valutare che non ci siano rumori respiratori, poi eventualmente fare farmaci che dilatino gli alveoli polmonari, quindi aerosol, cortisonici e quant'altro. Adesso l'inchiesta della procura di Arezzo, affidata al PM Angela Masiello, dovrà far chiarezza sull'accaduto. Il magistrato attende la relazione degli ispettori del lavoro, dei carabinieri e dei vigili del fuoco intervenuti sul posto per capire come e quali reati contestare.